E' il più giovane della difesa del Cagliari, ma non lo ha dato a vedere. Addirittura sembrava il più sicuro, il più anziano, quello con maggiori certezze. Sa interpretare i diversi ruoli, peraltro la difesa ha giocato anche da esterno. Si chiama Adam Obert ed è certamente uno dei giocatori di valore di questo Cagliari. E' dato nel 2002 e questa la dice lunga su quanto può ancora crescere. Un giocatore sempre sul pezzo, con grande attenzione, poche sbavature. Insomma uno di quei calciatori che anche nel giro dell'andata poi non era andato così male. Anche lui era caduto in qualche trappola, in qualche disattenzione. Ma nel vederlo nell'insieme non era certo quel calciatore che non ti dava garanzie. Ed è per questo che la sua presenza è cresciuta sempre più. Ed è per questo che è stato poi giudicato la pari di tutti gli altri giocatori, anche quelli più esperti, trovando costante spazio nel Cagliari. Voto per Obert 8